eccomi 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 buonasera amici amiche rossoneri sono arrivato dagli inferi lo vedete no sono arrivato dagli inferi ecco perché sono sbocato da sotto e vai ragazzuoli ragazzuoli belle buon weekend a tutti buona serata di questo venerdì 27 gennaio 2000 e 23 ore 18 e 32 le notizie anche se registrate in video sono belle fresche faccio vedere l'ora solo per un certo motivo per sburgiardare quelli che mi precisano mi contestano di non essere preciso io dopo che le notizie più fresche sono arrivate che loro hanno appena letto come è successo ieri e non hai precisato che Redbird si è chiamata fuori da ogni responsabilità sull'indagine che ha che ha avviato la guardia di finanza sulla vendita del mila che c'è di mezzo solo eliot non sei stato preciso avete capito perché faccio vedere l'ora della registrazione la faccio vedere solo per quei precisetti da quattro soldi che stanno sulla finestra gli uomini le donne del giorno dopo quelli che dopo dicono sempre te l'avevo detto come mi diverto con questa gente fate tutti ridere vabbè ragazzuoli belli io invece a voi che siete persone intelligenti e comprensive e che il vostro ciclicetto lo fate muovere abbastanza bene e anzi se più che abbastanza bene anche magari benissimo sicuramente forse alcuni momenti anche meglio del mio e lo alimentate bene mi raccomando alimentatevi sempre in modo sano mi raccomando scopriamo una cosa interessante e adesso tra poco ve la dico anzi no ve la dico subito perché l'argomento del video l'avete letto in copertina nel titolo praticamente chi ha ragione tra maldini e jerry cardinale cioè ha ragione maldini che ha bisogno di un budget extra o jerry cardinale che dice non è perché siamo in setman agreement con la uefa una mazza di budget extra noi del milan dobbiamo risparmiare bene io ho messo un posto oggi pomeriggio che un po' di persone un po' di voi hanno commentato questo post poi c'è chi commenta c'è chi non commenta ognuno fa quello che vuole nella sua vita che praticamente io ho voluto ricordare con degli hashtag proprio perché mi facevo facevo riferimento a jerry cardinale paolo maldini e quant'altro che praticamente o la proprietà redboard cambia registro oppure meglio che venda il milan è un po' una mia provocazione personale è un mio commento tutto personale con rispetto nei confronti della proprietà ma per lo semplice fatto che il mondo milan un club di calcio ai vertici come il milan un brand come il milan anche se jerry cardinale ha visto cosa vuol dire il tifo milanista in piazza duomo quando abbiamo festeggiato per lo scudetto deve capire che non è una robetta da poco e va bene il setman agreement va bene stare nei parametri però qui bisogna essere anche un attimino ambiziosi e nessuno di noi nemmeno io ho mai detto in video voi che mi seguite lo sapete che il milan deve spendere 100 milioni di euro per un giocatore non ho mai detto questo mai detto questo questa è una prospettiva futura e in base ai miei calcoli odierni visto che sono le 18 e 35 questo momento e noi potremmo arrivare a spendere cioè tornare a spendere in un modo un attimino un po diciamo a livelli altri nel 2024 inoltrato e sì ragazzi perché questi cercano il pareggio di bilancio tutte queste cose qua ma adesso vi racconto la notizia dell'ultima ora la notizia dell'ultima ora è che nicolò zagnolo ha detto tassativamente di no al barmouth questa squadra vabbè di bassa c'è vabbè dai non voglio pronunciarmi di questo barmouth qui rientra sempre il solito discorso che anche il più lo dico simpaticamente parlando sfortunati degli sfortunati del campionato di premier league praticamente prende una montagna di soldoni perché hanno più diritti televisivi da poter incassare e questa squadra che non è una squadra di vertici assolutamente no proprio la mazza è una mazza questi prendono gol a tutt'andare schiaffi a destra a sinistra praticamente ha proposto a nicolò zagnolo 4 milioni di euronetti e a stagione è praticamente una clausola liberatoria in caso di retrocessione del barmouth lui ha detto oggi zagnolo con il suo agente categoricamente no questo vuol dire che molto probabilmente la roma metterà i margini della squadra zagnolo zagnolo non lavorerà più con i suoi compagni della roma fino a fine stagione fino praticamente a fine agosto fino a giugno scusate fino al 30 giugno e poi zagnolo potrà andare dove cavolo vuole io dico che questa è una grandissima occasione sprecata da parte del nostro Milan si è saputo oggi Maldini è in tensione in conflitto con la proprietà e al quanto indispettito io dico che se Maldini deve rassegnare le dimissioni o cercare di rassegnare le dimissioni per prendere una posizione ferma contro questa proprietà che non vuole andare oltre seminato negli investimenti che nessuno ha chiesto 100 milioni di euro di un giocatore Maldini lo deve fare alla fine della stagione cioè a giugno adesso Maldini non deve dare nessuna dimissione questa è solo una mia idea per dare un segnale forte alla proprietà o vi svegliate oppure potete fare per i cavoli vostri o vendere anche il Milan che forse è meglio anche così perché la mia posizione è cambiata è cambiata perché io l'ho sempre detto sono sempre stato coerente con le mie idee e questo lo può sapere solo che mi segue da un po' di tempo ho sempre detto prima vediamo come vanno le cose fatto sta che comunque Elliot ha fatto un ottimo lavoro ma questo signora Jerry Cardinale il dottor Jerry Cardinale insieme a tutti i suoi investitori in pancia New York anche se alquanto mi sembra di capire che questi signori di tira fuori pecugna non ne vogliono sapere di tasca loro proprio una mazza cioè le berlusconi che noi avevamo ce lo sogniamo 400 volte questi soldi invece se le vogliono tenere nelle loro tasche dicono che il club si deve autosostentare io dico che nel 2024 forse potremmo spendere qualcosa in più forse per questi signori se ne potrà parlare anche fra cinque sei anni morale della favola lo dico come stoccata come bordata nei confronti della nostra proprietà perché in questo momento se lo merita perché ho detto non giudico subito ma giudico dopo e siccome stiamo arrivando alla fine di questo calcio mercato invernale perché lo ripeto siamo al 27 gennaio 2023 non lo dicevo prima ma lo posso dire adesso dico che questa proprietà non ha mosso foglia e per cui questi molto probabilmente si accontentano del quarto posto con l'algoritmo di Jerry Cardinale per comprare i giovani giocatori perché ragazzi allora ve lo dico subito Zagnolo non arriva adesso vediamo magari c'è un colpo di coda all'ultima ora non si sa Zieg non arriverà mai al Milan perché indovina indovinello pensavate che il Cessi ce lo regalava vogliono l'obbligo di 30 milioni di riscatto di Zieg poi Zieg chiede una stampata anche di compenso che un po' deve essere pagato dal Cessi un po' da chi lo prende come vi ho sempre detto Zieg è campo a cavallo che debba cresce chi se ne frega ma adesso il Milan ha offerto 5 milioni di euro per questo talentino dell'Università di Cile Dario Osorio attaccante esterno destro del 2004 per cui 19enne del Cile questo ragazzo è stato pescato dall'algoritmo di Jerry Cardinale cioè dove praticamente grazie all'algoritmo perché lui lo sapete il Tolosa e compagnia bella allora lui praticamente con l'algoritmo prendi questi talentini li porti al Milan e il Milan rimarrà meraviglioso sì 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 grandissimo bravo Jerry Cardinale però adesso arrivo subito alla questione anzi sono già arrivato alla questione per cui ho dato questa chicca Nicolò Zagnolo rifiuta il Bournemouth il Bournemouth è praticamente il Bournemouth è quello che ho pronunciato in modo esatto che è barba con questi nomi impronunciabili dice di no rimarrà al margine della rosa della Roma insomma noi siamo su questo talentino del Cile insomma le notizie principali ve le ho date adesso facciamo questa riflessione su chi ha ragione tra Maldini e Cardinale su Cardinale ho già detto un po' no? adesso vi mostro e vi leggo gli articoli che parlavano di Cardinale quando praticamente aveva appena preso il Milan le sue parole vedete? questi sono tre stralci di articoli giornalistici uno due e tre il primo praticamente dice questo aspettate che vado a prendere la matita fortunata guarda caso una matita che arriva da New York adesso si è cancellato ma questa qua arriva da Hudson Hotel di New York Hudson Hotel di Manhattan praticamente lo faccio opposta proprio visto che Cardinale ha sede a New York Milan Cardinale manterremo il club al vertice del calcio mondiale l'ex banchiere di Goldman Sachs soddisfatto dopo la firma del closing entusiasmo anche da parte dei New York Yankees una delle franchigie di baseball più importanti da me la famiglia Steinbrenner nuovo socio di minoranza peccato che questi Steinbrenner ho già capito che non tirano fuori la mazza di soldi 31 agosto 2022 manteremo il club vertice mondiale come fai a mantenere un club come il Milan un brand come il Milan un club che ha fatto la storia del calcio a vertice mondiale con i talentini del 2004 punto di domanda ma non dico neanche con quelli di 36 37 38 anni Giroud è un caso eccezionale stop come fai con queste due antitesi cioè l'opposto e l'opposto dell'altro scusate il gioco di parole l'opposto cioè sconosciuti che vabbè conosco il campionato italiano ma più che conosce il campionato italiano non hanno proprio niente che hanno già dimostrato e dall'altra parte quelli che sono a fine carriera come si fa? Comunque diciamo sempre grazie a Giroud dico che è l'eccezione Giroud batteremo il club al vertice del calcio mondiale mister Jerry Cardinale questa cosa ad oggi mi fa un po' sorridere Milano 31 agosto sempre Cardinale vogliamo battere il Milan al vertice del calcio europeo questa è l'ANSA e mondiale supporteremo i nostri talentuosi giocatori allenatori e staff nel loro impegno a raggiungere il successo in campo e per consentire ai nostri tifosi di condividere le straordinarie esperienze di questo club storico faremo in modo di sfruttare la nostra rete globale di sport e media la nostra esperienza nella raccolta analisi dei dati il nostro track record nello sviluppo di stati sportivi e ospitalità e mantenere il Milan al vertice allora ad ora praticamente quello che preme più a Cardinale ve lo dico io cos'è ma è normale anche che sia così perché il Milan ne ha bisogno lo stadio appunto per cui tirare su il cemento, tirare su edificare e tutto il resto è quello che interessa anche quelli dell'Uniork ma è normale, ma è giusto così ha sempre ragione che tira fuori i soldi io non sto dicendo il contrario però c'è anche il resto ci sono anche i successi sportivi perché se lo stadio ce l'hai ma i successi sportivi non arrivano a mazza faremo in modo di strutturare le nuove rete globale di sport e media la nostra esperienza raccolta analisi dei dati i famosi algoritmi per scoprire i giocatori come questo qua che arriva dal Cile che cavolo è questo qua? un altro flop, non si sa va bene comunque continuiamo qui a Natale, prima di Natale Milan, Cardinale, l'obiettivo è tornare al vertice in Europa il proprietario in carica ha scritto una lettera a Natale Rossoni l'obiettivo è tornare al vertice in Europa arrivateci in Europa in che modo, mister Cardinale? prendendo l'algoritmo e comprando i giovani del 2004, 2005, 2006 tra un po' prendiamo quelli nati nel 2010 in Champions League dove vogliamo andare? da nessuna parte quest'anno se arriviamo quarti è già un miracolo ve lo dico subito io non spero in questa affermazione che ho detto io spero che arriviamo minimo secondi perché Napoli ha già vinto lo scudetto spero che minimo arriviamo secondi lo spero lo spero con tutto me stesso con tutto il mio cuore ma se arriviamo quarti dobbiamo già fare e negli altri anni a venire cosa succederà mister Cardinale? ah, perché ve lo dico già adesso da quello che ho capito io dicevo Stefano Pioli via per come Stefano Pioli non prende in mano le reti di situazione con carisma non cambia modo del gioco tante cose di cui ha sbagliato anche Stefano Pioli anche se non ha avuto un ottimo mercato estivo anzi praticamente nullo però le sue espose con i Tampioli ce li ha scordatevi che arriverà un grande allenatore questo non caccia un euro adesso lo dico perché ad ora lo posso dire l'estate scorsa non potevo dirlo dovevo conoscerlo questo Gerry Cardinale è chiaro? lo dico per quelli che dicono ah ah quelli del giorno dopo che mi fanno ridere ah 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 ma tu mi avevi detto che era uno spettacolo sì sarà uno spettacolo sarà uno spettacolo quando molto probabilmente quando deciderà Gerry Cardinale in due casi uno che abbiamo raggiunto sto benetto pregio di bilancio e si può spendere oppure due che vende subito il Mila basta allora voglio ricordarvi che però una cosa Gerry Cardinale una ragione ce l'ha e qual è la ragione? che l'estate scorsa l'estate appena trascorsa il 2022 per il calcio mercato estivo quello più importante vi voglio ricordare che Maldini e Massara hanno rinnovato a fine giugno praticamente primi di luglio e primo luglio e praticamente a fine giugno 30 giugno e allora praticamente devo dirvi che comunque la proprietà ci ha dato modo di spendere più di tutti in serie A perché abbiamo speso praticamente circa 50 milioni di euro ok ho capito abbiamo speso la maggior parte del budget solo per De Keteler che ad ora è un flop pazzesco e poi tutto il resto per altri flop pazzeschi Tiavò Dest Adli Vranx Orighi non ne parlià io di Orighi non voglio più parlare parentesi questo messaggio è rivolto a Bakayoko Bakayoko tu ti devi vergognare quello che stai facendo al Milan Bakayoko ecco mi sono dimenticato all'inizio del video con questa notizia d'ultima ora ha rifiutato qualsiasi tipo di altra destinazione vuole rimanere al Milan fino a giugno e poi se ne ritornerà al Cessi perché lo sapete se lui gioca 15 partite dobbiamo riscattarlo dal Cessi 15 milioni di euro te lo sogni comunque Bakayoko tu ti devi vergognare hai tradito la bontà di Maldini perché tu e il tuo agente avete chiamato e vi siete fatti sentire con il Milan dalla mattina alla sera pur di ritornare al Milan pur di ritornare al Milan e poi risultati della tua preparazione fisica della tua capacità di ritornare a un gioco un po' più consapevole namazza e in più rifiuti altre destinazioni danneggiando il Milan indirettamente danneggiando anche il Cessi complimenti Bakayoko ti devi vergognare di quello che hai fatto ti devi vergognare di quello che hai fatto adesso però raddrizzo un po' la cam che mi ha stufato questa cam un attimino un po' più alta mi metto un po' più parallelo a tutto l'asse e praticamente continuiamo vi stavo dicendo che praticamente comunque la proprietà dei soldi ce le ha date perché siamo quelli che abbiamo investito di più di tutti in estate per cui Maldini ha floppato anche lui su certi colpi in teoria uno potrebbe dire questo non ha bisogno dell'extra budget per prendere Zagnolo piuttosto che però è anche vero che se qualcosa adesso non lo fai dove andiamo a finire entro la fine di questo campionato il girone di andata praticamente si sta concludendo e adesso cosa faremo per il girone di ritorno per il girone di ritorno io dico dobbiamo sperare di avere quarti è facile che possiamo anche arrivare ai decimi o dodicesimi e poi voglio vedere cardinale come fa andare il suo algoritmo voglio proprio vederlo vabbè comunque sicuramente lo ripeto Maldini ha la sua responsabilità proprio per questa cosa che vi ho detto poco fa insomma i soldi forse non li ha investiti bene poteva prendere Buttman lui non ha voluto prendere Buttman perché ha voluto prendere CDK De Keteler che Buttman miglior difensore della Premier League complimenti a Sven Buttman e complimenti a noi che non ci abbiamo capito una mazza e i flop si possono fare gli sbagli si possono fare non c'è nessuno di infallibile però se dobbiamo bilanciare mettere sulla bilancia chi ha più torti diciamo che in questo momento è una bella battaglia non dico che è un 50-50 ma potrei mettere ecco la conclusione finale di questo video è diamo un torto praticamente a un 60% la proprietà e un 40 a Maldini e la dirigenza perché Maldini ultimamente sicuramente ha flopato il merscoso mercato estivo ha flopato è vero che forse non avrebbe diritto al budget extra ma Maldini ha capito la situazione critica bisogna rinforzare il Milan perché se no il secondo posto non lo agguanti però siccome ha ragione chi mette i soldi chi mette i soldi probabilmente i soldi non ne vuole mettere per cui nella bilancia nella mia personale bilancia 60% del torto lo ha Gerry Cardinale col suo Red Bull e il 40% i nostri dirigenti che fanno il mercato detto ciò Mr. Cardinale lo ripeto mi rivolgo a lei personalmente con rispetto che mi compete lei ha due strade o un attimino cerca di mettere mano al Milan non vuole farlo adesso va bene lo faccio almeno dall'estate prossima non lo vuole fare dall'estate prossima lo fa dal 2024 ma se lei dall'inizio del 2024 non mette mano al portafoglio le dico io che è meglio che se ne vada dal Milan nel senso la tifoseria non la sopporterà più la boicotteranno tutti quanti il Milan sprofonderà sempre di più sarà una tragedia in mane lei avrà in mano un qualcosa che si è trasformato praticamente in un qualcosa che meglio che lo vende che forse appunto è meglio e cosa volete che vi dica ragazzi siamo nelle mani del destino forza Milan sempre comunque ovunque spero che questo messaggio qualcuno di Red Bull lo veda perché lo ripeto è vero che noi abbiamo concordato il settlement agreement con la UEFA dobbiamo stare dentro i paletti ci dobbiamo sostentare come fanno gli altri guardano in più però purtroppo Gerry Cardinale è una cosa che non ha capito che questa Serie A non fa fatturare come la Premier League per cui a noi di soldi in tasca non ci arrivano come le squadre inglesi e qui è il proprietario che almeno all'inizio deve tirar fuori qualcosa se lui non capisce questo se non capisce lui e i suoi investitori che qualcosa va fatto per far splendere sempre di più aumentare il fatturato al Milan cioè devi investire per fatturare di più e dopo stabilizzarti se questi non hanno capito questo che sono ex manager di Goldman Sachs e di JP Morgan e di questo e di quell'altro lo devo spiegare io che non sono manager di niente non so allora cosa vuol dire che sono più bravo io di loro non lo so vi saluto vi mando un abbraccio ciao noi ci vediamo domenica alle ore 3 per le ore 15 per video reaction dopo Sassuolo Milan speriamo che non sia una tragedia di partita vi mando un abbraccio ciao